Per la nomina del nuovo Presidente dell'autorità portuale di Genova si dovrà attendere la ratifica del decreto legislativo che coinvolge i porti riguri e potrebbero quindi passare ancora alcuni mesi. Il decreto è quello relativo all'unificazione dei porti di Genova, Spezzi e Savona e le norme in esso contenute, a meno di ulteriori modifiche in sede di revisione a Camera e Senato, potrebbero volgere in favore della nomina alla Presidenza di Sandro Biasotti, così come era stato indicato dal Presidente della Regione Giovanni Toti. In precedenza infatti la nomina era appannaggio del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, che era obbligato soltanto a sentire il parere dei Presidenti di Regione. Ora invece la nomina prevede che avvenga in accordo fra Ministro e Presidenti di Regione e considerato che in Liguria e Veneto le Regioni sono in mano al centro-destra, in entrambi i casi per la nomina della Presidenza delle rispettive autorità portuali dovrebbe prevalere quanto indicato dai governatori. Il nome del parlamentare di Forza Italia Sandro Biasotti, professionalmente da sempre legato al bacino portuale genovese, resta dunque in auge.